Boston non è Las Vegas. Ora l'economia è in crisi. Qui il mercato immobiliare è morto. Tutti cercano di sbarcare il lunario. Se non ci sai fare... Ne ho abbastanza. ...sei fuori dai giochi. Ci vorrebbe un vero miracolo. Ho toccato il fondo, ora basta. Se non ti sai muovere in fretta... Ci sarà sporto, movimento e rumore. Sei spacciato. Se nel tuo lavoro non metti passione, puoi restartene a casa a mangiare cioccolatini. Perché quando ristrutturi un immobile... ...le previste sono continui. No, no! L'uno dopo l'altro. Niente, va come dovrebbe. Ce la faremo. Flip in Boston, da lunedì a venerdì alle 19 su Cero.